In Italia si ha il grande pregiudizio per cui la musica colta abbia una difficoltà a entrare nell'immaginario collettivo, non è assolutamente vero, anzi con una sorta di presunzione dico che la musica l'abbiamo inventata noi, quindi ce l'abbiamo nel DNA, nel sangue. Le cose belle vengono sempre riconosciute e soprattutto in Italia viveva un momento di eccezionale risveglio artistico e culturale. La musica classica è sempre stata pop e lo è sempre stata nel corso della sua millenaria storia. Solo nel 1900 la musica colta si è chiusa dentro una torre d'avorio ed ha deciso di non comunicare più con la società. Invece è giunto il momento di uscire dalla torre d'avorio e di fare in modo che la musica colta ritrovi il suo filo rosso diretto ed immediato con il cuore della gente. È quello che hanno sempre fatto i grandi compositori del passato. Certo, è difficile pensare a come una musica possa esprimere un'emozione. Di fatto io considero la musica un'entità esterna, come se fosse una strega che ha monopolizzato la mia vita e che viene a cercarmi, quindi viene dall'esterno. Poi la musica che viene a trovarmi ha un impatto emotivo prima di tutto su me stesso e poi anche sull'ascoltatore del disco oppure l'ascoltatore del mio concerto live. A questo punto inizia un aspetto che per me è misterioso. Il modo in cui ogni singolo individuo che è unico e ripetibile si rapporta alla musica per me è a del misterioso e dell'incredibile. Ed è una sfera che non voglio toccare e che non voglio spiegare. La direzione verso cui sto andando è difficile da capire perché, come dicevo, non sono io che sto prendendo la direzione ma è la musica che viene a trovarmi, che attraverso di me che sono un umile, manovale, si manifesta e si esprime. Probabilmente la musica contemporanea nasce all'insegna di una semplicità che però è una complessità risolta, altrimenti è banalità. E contiene dei caratteri che sono tipici della contemporaneità. Un certo tipo di ritmica, una certa costruzione delle melodie, un certo tipo di armonie, il rifiuto della sperimentazione a tutti i costi e la atonalità e la dodecafonia come un piccolo incubo del passato che ci teniamo alle spalle. Grazie.